Ciao ragazzi, sono Luigi. Oggi è una cosa rana che oggi succede un casino oggi e sono parlando di un'amica, no? Che ci hanno detto le cose più. E adesso se viene ci parliamo. E' il un'amica che si rana, è un'amica che si rana. E' un'amica che si rana. E' un'amica che si rana. E' un'amica che si rana, è un'amica che si rana. E' un'amica che si rana, non è un'amica che non è questo. E' un'amica che si rana. eh? va vi grava? eh? 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 Oh Dio What the hell 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 Non è come diceva, è la sua coppa U, è fatto di mia, Luciano. E la voglia, ragazzi. Ah, perché guarda nella gitta, sono un asso di merda, ragazzi. fuori verso l'inverda proprio eh... apro oh vecchio ecco la tua ecco la ecco... 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 c'è poi mi dice è un altro amore ma perché ci vanno la piccola con l'uciano io così e io così ecco il cancello tra noi c'è grazie a noi grazie a voi grazie a voi ecco ecco no no ma perché no ma perché guarda di guarda di io c'è 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 guarda di no ma guarda ci stiamo perché si guarda di quale io ho chiuso la mia va tenso che non loлючi va tenso E basket Ah la mia mia C'è l'avigami la ghi e sce Allo? Afra? C'è l'agra C'è l'agra Ehm... Vai a comer Ah ok, andavo ... ... ... ... no no, ma che ho messo con il netto Grazie a tutti Oh Dio mio non lo lasciavo la donna Oh Dio mio non lo lasciavo la donna Oh Dio mio non lo sacrificavo Oh Dio mia cosa succede ok, go 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 no 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 perchè non so che voglio parlare si no niente sapevo che che è chiesto no perchè che è chiesto che è chiesto che è chiesto senza ego no ma c'è nulla di scegliere no trovo無ia in ordine di chiara sono ma ah non 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 affetto 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 oh vai ford già che lo oh my god a a a a a a a a a Bene, carico. Una volta assata con vento, una volta. Con vento, una volta. Ahahahah Oh my God Eh? oh Sì, sì, ho nemmeno, nemmeno, bobbio! AHHHHH! Ma perché è così fai? aaa 20 Ah, io e? Ah, io e scusatevi. Eh, ah, sono scusate. C'è la cosa. Ah, io e scusatevi. no 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 ciao vico ma ciao no 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 cripino ah no ah no ah no i piedi ma cosa no i'ma e Sì! Vabbè, a dovevo? Sì, a dovevo. Sì, a dovevo? Sì, a dovevo? A, dovevo? Sì! Ahhhh Toi io E' un'acqua uendoci la parte Ahhhh A me la città da scopo A me la città da scopo A me la città 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Allora... 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 E... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......